Il sesto punto del nostro programma è più garanzie per ciascuno. Occorre una giustizia giusta, efficiente e rapida. I processi troppo lunghi sono un danno per tutti. Il colpevole non viene punito, l'innocente resta alla gogna per anni. Ci vuole una giustizia che garantisca i cittadini, che punisca i magistrati che sbagliano gravemente con colpa e con dolo, cosa che il Partito Democratico non ha voluto fare. Ci vuole una legge che non entri in modo invadente nelle vite dei cittadini e non uno Stato onnipotente come vogliono i Movimento dei Cinque Stelle che vogliono, l'hanno detto più volte, che lo Stato possa spiarci davunque persino mettere i virus nel nostro computer per controllare che cosa ci abbiamo sopra. Se uno delinque deve essere colpito, deve essere processato rapidamente e condannato. Se uno non fa niente di male deve essere lasciato in pace. Lo Stato non è il padrone, lo Stato deve difendere i cittadini. È nato per questo e deve continuare a fare questo.